Un terremoto di magnitudo pari a 6 gradi sulla scala Richter ha interessato la Grecia centrale la notte scorsa. L'epicentro del sisma è stato individuato 10 km a nord-oveste di Tirnavos, cittadina a circa 360 km a nord della capitale. In migliaia hanno trascorso la notte fuori dalle proprie abitazioni. Le case sono in pessime condizioni, non sappiamo dove andare. In questo momento gli autobus ci porteranno in un hotel a Tricala per passare la notte. Per fortuna c'è l'esercito, i militari ci hanno dato anche l'acqua da bere, gli esperti devono venire a vedere le case per sapere se possiamo tornarci. Dopo la scossa principale ne sono seguiti altri di assestamento. Si sono registrati danni ad abitazioni e cose, al momento non risultano feriti gravi.